Abbiamo presentato una mozione perché ci sono dei problemi rispetto ad alcuni farmaci importantissimi. Quando in Europa viene legisitamente utilizzato e registrato un farmaco, di fatto può entrare in Italia. Peccato che arrivi nella fascia C a pagamento. Ultimamente ci sono due nuovi farmaci oncologici per il seno che in Italia faticano ad entrare nel prontuario farmaceutico. Hanno costi elevatissimi, solo pochissimi possono permettersi a pagamento. La prima puntura è 6.000 euro e 3.000 per il ciclo successivo. Quindi stiamo chiedendo con forza alla Lorenzin che l'AIFA acceleri il cammino per metterlo nel prontuario farmaceutico. E come per questo anche per tutti i farmaci orfani, tra virgolette, perché nessuna casa farmaceutica fa ricerca per le malattie rare. E anche per quelle delle malattie invalidanti. Questa è una richiesta proprio che è importante per la salute della gente, il diritto alla salute in una nazione che si dice questa Italia che io invece reputo sempre più assente come governo, civile. Civile così non è. Cosa che non è? Grazie.